Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei si è per prima Buongiorno amici e buon santo Stefano. Esplosa una campagna occidentale contro la Cina sulla gestione del Covid-19 perché rifiuta i vaccini a mRNA, ma in realtà sul piano sanitario sta molto meglio dell'Italia. In Italia e in Europa, con la complicità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si è scatenata una campagna contro la Cina per la sua attuale gestione del contrasto alla diffusione della malattia che continua a essere indicata come Covid-19 anche se non c'è più il virus SARS-CoV-2 che la causava. Alla Cina i mezzi di comunicazione di massa dalla narrazione egemone unificata contestano che nasconderebbe i veri dati sul totale dei nuovi contagiati, dei nuovi morti per Covid-19 sulla base dei seguenti punti. 1. La decisione del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie di non rilasciare informazioni sulla pandemia su base giornaliera. 2. La fine dell'obbligo di sottoporsi ai test PCR molecolare di routine per la maggior parte della popolazione. 3. Non considerare i decessi causati da patologie preesistenti nei pazienti che sono stati infettati dal coronavirus come decessi per il Covid. 4. Il rifiuto della Cina di accettare i vaccini a mRNA, in particolare quelli della Pfizer-BioNTech, offerti recentemente dal presidente tedesco Frank Walter Steinmeier al presidente cinese Xi Jinping. Ebbene, anche in Italia e in tutta Europa è stata posta fine alla pubblicazione quotidiana del bollettino che ci terrorizzava con l'aggiornamento sul numero dei contagiati, dei positivi, degli ospedalizzati, dei ricoverati in terapia intensiva e dei morti. Anche in Italia e in tutta Europa è stata posta fine all'obbligo di sottoporsi ai test molecolari per accertare l'eventuale positività ai coronavirus che mutano in continuazione, così come è stata posta fine all'obbligo di esibire il lasciapassare vaccinale denominato Green Pass, infine è stata posta fine all'obbligo di indossare le mascherine se non all'interno degli ospedali. Per quanto concerne il conteggio distinto, tra quanti sono morti a causa del Covid-19 e quanti sono morti con il Covid-19 come con causa in pazienti che avevano malattie plurime pregresse, questa richiesta è stata ripetutamente avanzata in Italia anche da parte delle autorità sanitarie, soprattutto per porre fine all'esborso straordinario per il costo dell'adegenza che nel caso del Covid-19 è stata di 2.000 euro al giorno contro i 500 euro al giorno per le altre patologie. Infine è veramente singolare che si contesti la Cina perché fa uso di un vaccino tradizionale a virus inattivato, Sinovac e Sinopharm, che contengono particelle di SARS-CoV-2 trattate chimicamente per impedire l'infezione anziché i vaccini a tecnologia genica a mRNA. Oltretutto, facendo riferimento al confronto tra l'Italia e la Cina, si evidenzia che la condizione della Cina in merito al contrasto al Covid-19 è nettamente migliore. In Italia il totale dei casi di malattia è ad oggi 25.021.606, il totale dei morti è 183.936, le persone con vaccinazione completa sono pari al 79,6% della popolazione. In Cina il totale dei casi di malattia è stato di 1.909.905, il totale dei morti 5.242, il totale delle persone con vaccinazione completa è pari al 90,8% della popolazione. Cari amici, ci auguriamo che chi veramente ci comanda, la grande finanza speculativa globalizzata che controlla le multinazionali della farmaceutica e che dà ordini ai nostri governi, non riesca a sottometterci a una nuova fase di restrizioni della nostra libertà e del nostro diritto a una visione olistica della salute, al lavoro, alla socialità, all'istruzione e allo sport. Dobbiamo acquisire e diffondere informazione corretta e mobilitarci per salvaguardare i nostri valori inalienabili alla vita, dignità e libertà. Andiamo avanti, a testa alta e con la schiena dritta, forti di verità e con il coraggio della libertà. Con l'aiuto del Signore, insieme, insieme ce la faremo, a far rinascere la nostra civiltà, a salvare gli italiani, a riscattare l'Italia. Buongiorno, amici.